Dopo aver iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione con il successo sul campo del Monza, la Primavera Rossonera di Ignazio Abate prova a confermarsi anche alla prima sfida casalinga della Nata 23-24. Amici di Milan TV, buongiorno dalla Puma House of Football, in Milano da parte di Simone Nobilini e benvenuti a Milan-Bologna, seconda giornata del campionato Primavera 1 Team. Ancora calcio d'angolo per il Bologna, colpo di testa e arriva il vantaggio. Nel pallone calciato sul primo palo sul quale è riuscito a svettare Menegazzo. Victor per Bartesaghi, Bonomi prova lo spunto su Mercier, va sul fondo, la mette dentro col mancino, pallone buono per Cuenca che la mette giù, Cuenca col sinistro! Deviazione provvidenziale da parte di Diop in calcio d'angolo. Angolo qui battuto dal Milan, pallone dentro, arriva il pareggio! Subito del Milan con Giancarlo Simic! Un minuto dopo all'inizio del secondo tempo, aveva colpito così il Bologna, risponde così il Milan con il colpo di testa di Giancarlo Simic. Bino sbaglia completamente il passaggio in profondità, recupera Cuenca, c'è Zeroli, c'è solo in mezzo Sia, lo vede Zeroli, il pallone per Sia, in area di rigore, Sia! Diego Sia! Eccolo qui, ancora lui! Dopo la doppietta al Monza, fa gol anche al Bologna e il Milan. La ribalta! Insiste ancora Bonomi, che va sul fondo. Bonomi la mette dentro, per il colpo di testa! Vincente per il gol del 3-1! Segna, appena entrato, Vincenzo Perrucci! Mirando lì, all'angolino, dove Bagnolini non può arrivare! Grande recupero qui di Giancarlo Simic che esce e si porta via il pallone e si propone anche in zona offensiva. Simic dentro, per Perrucci! 4-1! Doppietta! Per Vincenzo Perrucci, sul recupero a palla, sontuoso di Giancarlo Simic. E allora, finisce qui, finisce 4-1 per il Milan, che dopo il debutto vincente a Monza, vince nettamente anche contro il Bologna, c'entra la seconda vittoria consecutiva in campionato, qualcosa che non succedeva dalla stagione 2016-2017. È tutto per oggi, da parte di Simone Nobilini, un grazie per essere stati in compagnia. e un saluto rinnovandovi l'appuntamento con tutta la programmazione di Milan TV.